Stai cercando l'opportunità per entrare in contatto con una clientela di alto livello all'interno del mondo real estate di lusso? Vorresti avere la possibilità di trattare proprietà di prestigio e diventare un professionista di successo grazie a un metodo formativo di eccellenza? Se trovi questi argomenti interessanti, Engel & Fölkers, azienda tedesca leader nel settore immobiliare, può offrirti la possibilità di avviare con successo la tua carriera d'agente immobiliare. Un marchio forte, una rete globale e naturalmente ottime possibilità di guadagno. Per conoscere l'affascinante mondo di Engel & Fölkers clicca sul link e registrati all'evento che si terrà il 27 ottobre a Brescia presso l'hotel Vittoria in via 10 giornate. Ti aspettiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!